Leonardo Mancuso è tornato al gol con il Carpi, otto reti in questa stagione, un gol al record in Serie B, sei soddisfatto ovviamente? A livello personale sta andando bene, sono contento di questo, ma sono contento ancora di più dell'andamento della squadra che credo sia molto positivo. Sarà una bella partita, giocata da due grandi squadre, ci prepareremo bene in settimana per andare là e fare una grande partita. Leonardo, i numeri dicono che il Pescara quando segna, segna soprattutto con Mancuso, secondo te perché? Ma non credo sia così, comunque anche altri miei compagni sono andati a segno segnando reti decisive, quindi diciamo che in questo momento magari sto facendo qualche gol in più io, ma tutti i miei compagni stanno facendo grandi prestazioni, grandi partite e infatti i risultati lo dicono. Io penso che dall'inizio dell'anno si sia visto che è un campionato veramente equilibrato, dove ogni partita è difficile e è chiaro, il Verona fa parte delle squadre più attrezzate di questo campionato quindi sappiamo che sarà una partita difficile, ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per andare a fare un gran risultato. A Verona preferiresti giocare da punta centrale oppure ti accontenteresti anche di tornare sulla fascia? No, questo è un discorso che ormai viene fatto da troppo tempo, io sono a completa disposizione del mister, posso fare entrambi i ruoli, quindi non ho preferenze. Se dove il mister decide di impiegarmi io darò il massimo, nei prossimi giorni poi cominceremo a parlare più dell'aspetto tattico e di quello che sarà la partita. Il Verona gioca Alessandro Crescenzi, vostro ex compagno, lo avete sentito, vi siete sentiti, vi sentirete? No, penso che lo saluteremo con affetto perché anche a livello mio personale è un ragazzo con cui mi sono trovato veramente bene, però fino alla partita lo saluteremo prima e poi in campo diciamo che non ci saranno amicizie. Sicuramente un attaccante deve scendere sempre in campo per provare a fare gol, ma credo che la cosa principale sia aiutare la squadra a fare un grande risultato, poi se arriverà il mio gol meglio, ma l'importante risultato è la squadra.